Buonasera da Fabio Ferri e amici sportivi di Teleiride, bentornati a T-Sport, la nostra consueta pagina di informazione sportiva sulla provincia di Firenze e sulla regione toscana. Quest'oggi come di consueto apriamo parlando di Fiorentina e attraverso le pagine del nostro TG Viola. Vi raccontiamo la partita persa ieri dai Viola contro la Lazio, ovviamente anche attraverso le parole nel post partita di Paolo Sosa. Andiamo subito a ascoltare il nostro TG Viola e poi torniamo in studio per parlare ancora di calcio e ancora di Serie A. Due sconfitte in quattro giorni per la Fiorentina di Mr. Paolo Sosa che anche ieri sera, nella notturna dell'Olimpico contro la Lazio, esce a tasche vuote contro dei Bianco Celesti ad ora in piena zona Champions. Una sconfitta prevedibile dal momento che i Capitolini, soprattutto contro la Fiorentina, hanno usufruito più volte del fattore campo, con una Viola che inoltre veniva dalla deludente sconfitta di Marassi contro il Genoa, una squadra capace ieri sera di prenderne quattro dal Palermo. Ed anche ieri a Roma i gegliati sono partiti sulla falsariga di Genova giocando un brutto primo tempo anche a causa dell'indisponibilità di Badel e Borca Valero a centrocampo e subendo un 1-2 letale con prima Keita ed in seguito Biglia che allungavano il vantaggio dei Laziali sul 2-0 già a fine primo tempo. In particolare evitabile il secondo gol con un impreciso teglio, deludente la sua prova anche ieri sera, che lanciava Milinkovic Savic ad ottenere il rigore poi realizzato dal capitano dei Bianco Celesti. Nel secondo parziale poi prova a rimescolare le carte Sosa mandando in campo Cristoforo per Tomovic ed in effetti i risultati si vedono con Ilicic che ha la possibilità di accorciare dal dischetto per i gigliati, ma lo sloveno non è deciso e si fa parare allora un altro rigore dopo quello contro il Milan. L'ingresso di Zarate in seguito dà vivacità e brio alla Fiorentina che proprio con l'argentino riesce ad andare in gola al 65esimo. A questo punto sembra potercela fare la Viola ad acciuffare un insperato pareggio anche perché al posto di Teglio entra un chiesa apparso molto più convincente rispetto allo spagnolo, ma inevitabilmente i gigliati si sbilanciano troppo e dallo scadere allora subiscono il colpo del KO con Radu che concretizza al meglio un contropiede per i padroni di casa. Seconda sconfitta in pochi giorni quindi per la ciurma del mister Lusitano che stanzia ad ora in ottava posizione a 26 punti a meno 7 dalla zona Europa con un Napoli che nel frattempo arriverà a Firenze giovedì forte della convincente vittoria contro il Torino. Dimostra di questo sono molto soddisfatto perché ogni partita vedono i miei giocatori un coraggio, un'ambizione per oltropassare tutte le difficoltà. Credo che l'inizio di gioco sia stato equilibrato fino al gol dell'Alasio dove avevamo avuto un 2 contro 2 nell'area avversaria e su una transizione, sia stata una transizione nostra offensiva un 2 contro 2, non siamo riusciti a concludere, a finalizzare e questo ha permesso al nostro avversario fare sì loro una transizione offensiva e noi nella nostra transizione difensiva non siamo riusciti a bloccare o a controllare quello che è stato da quel momento una mancanza di controllo e di equilibrio nel gioco. Comunque credo che senza avere un grandissimo dominio o un grandissimo numero di opportunità del nostro avversario finalizzando purtroppo con rigore alla fine della prima parte comunque la squadra dopo piano piano ha cominciato a crescere abbiamo avuto subito la possibilità di ridurre all'inizio del secondo tempo la squadra ha continuato a spingere a credere e questo mi rende soddisfatto purtroppo non siamo ottenuti quello che meritavamo nel complesso di tutta la partita perché credo che il risultato, credo io giusto, era un pari credo per tutte quelle partite che stiamo facendo credo che la squadra fisicamente sta molto bene e dopo anche mentalmente è una squadra che sa reagire dentro di quello che vi vengo a dire e che ho chiesto dall'inizio, da quando sono arrivato che ha bisogno di avere coraggio, ha bisogno di avere ambizioni la squadra ci dimostra questo dopo questi sono i giocatori che abbiamo cerchiamo di migliorarli tutti i giorni per mantenere al massimo una continuità di livelli alti che ci possa permettere di competere oggi la competizione è stata contro una squadra che l'anno scorso ha stato molto vicino a stare in Champions gli ha migliorata in tutti i riparti ha iniziato molto bene in una classifica alta e con tutte le difficoltà che oggi il momento comporta per noi siamo riusciti a competere per questo questo ci deve fare deve dare la consapevolezza che certo che possiamo competere con qualunque abbiamo bisogno che i nostri momenti siano anche a nostro favore e dopo aver parlato di Fiorentina come promesso rimaniamo in ambito calcistico rimaniamo nel campionato di Serie A e andiamo a parlare dell'Empoli Empoli che in questo weekend ha raccolto una vittoria e dunque è tornata a muovere la classifica la squadra del mister Martuscello che ha battuto 2-0 il Cagliari grazie a una doppetta di Levan Mecelize torna a vincere dopo 4 giornate l'Empoli e lo fa nel migliore dei modi sì perché sabato al Castellani è andato in scena lo scontro quasi diretto contro il Cagliari nel quale gli Azzurri avevano l'obbligo di ritrovare la via del gol e dei tre punti per continuare a stare fuori dalla zona retrocessione e non si è fatta trovare impreparata la squadra di Giovanni Martuscello le quali scelte tra l'altro hanno influito e non poco nella bella prova dei Toscani sì perché la vigilia sembrava quasi scontata la partenza dal primo minuto di Alberto Gilardino il quale invece a sorpresa è partito dalla panchina con il tecnico degli Azzurri che schierava Mecelize e Marilungo come coppia offensiva titolare ed è proprio questa la mossa che risulterà decisiva alla fine con l'Empoli che troverà i due gol proprio su quest'asse inedito con Mecelize in particolare che torna a segnare una doppietta importantissima per gli Azzurri in questo momento una partita fatta di lotta e sacrificio comunque quella contro i Sardi con l'Empoli che infatti alla fine avrà sei ammuniti in totale ed un rigore parato da Skorupski che risalta ancora di più per gli Azzurri l'importanza del numero 28 polacco ed allora ecco che arrivano altri tre punti dopo una prolungata astinenza per la squadra di Martuscello che si trova ora 14 in classifica più 5 da Crotone e Palermo non c'è tempo però per respirare perché i Toscani sono tornati subito al lavoro in vista dell'ultimo impegno prima della sosta natalizia ovvero quello di martedì sera contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini contro la Dea sarà sicuramente difficile per gli Azzurri che non disporranno inoltre di Zambelli e Pasqual ma l'Empoli è deciso a chiudere al meglio questo 2016 calcistico che per i Toscani si concluderà allora domani sera contro i Nerazzurri adesso parliamo di un evento che si è tenuto oggi all'ospedale pediatrico Maier il 19 dicembre 1999 infatti moriva Tommasino Bacciotti il bambino da cui prende il nome la nota fondazione che aiuta proprio i genitori che affrontano momenti difficili per i figli come quelli appunto attraversati dalla famiglia di Tommasino Bacciotti al Maier oggi appunto questo bell'evento di beneficenza che ha visto coinvolta la fondazione Maier ma anche tanti rappresentanti del mondo dello sport delle istituzioni e delle forze dell'ordine e anche due babbi natali particolari perché ce n'è stato uno acrobatico è un altro che viene direttamente dall'organigramma della Fiorentina in particolar modo si tratta di Pantaleo Corvino che ha fatto un'incursione nelle corsie dell'ospedale pediatrico per portare i doni ai bambini che appunto sono pazienti della struttura del Maier Natale si avvicina e come ogni anno la fondazione Tommasino Bacciotti ha portato Babbo Natale nei corridoi del Maier oggi 19 dicembre infatti giorno dell'anniversario della scomparsa di Tommaso la fondazione benefica nata in favore dello studio e della cura dei tumori cerebrali infantili ha raccolto al Maier tanti esponenti del mondo delle istituzioni delle forze dell'ordine e dello sport per portare i doni di Natale ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti dell'ospedale pediatrico Fiorentino tra le novità di quest'anno l'arrivo di un Babbo Natale acrobatico che si è calato dall'alto della hall Serra dell'ospedale facendo una sorpresa ai bambini e consegnando il sacco dei regali ad un altro Babbo Natale particolare come il DG della Fiorentina Pantaleo Corvino a testimoniare la vicinanza del comune di Firenze al Maier e alla fondazione Bacciotti era inoltre presente il sindaco Dario Nardella certo io vorrei ringraziare a nome della città di Firenze fondazione Bacciotti la fondazione Maier e ovviamente tutte le personalità che anche oggi sono intervenute con grande entusiasmo grande generosità perché non basta mai ricordare quanto questo ospedale faccia per i bambini di tutta Firenze direi della Toscana e anche del resto d'Italia considerate che un bambino su quattro viene da fuori della Toscana questo dimostra anche l'eccellenza del nostro ospedale pediatrico e in questo senso la collaborazione che con il comune abbiamo attivato su tanti livelli per noi è centrale quindi ringrazio veramente i medici gli infermieri la fondazione Maier quest'anno ricordo che la fondazione ha anche lanciato questo team questa task force per aiutare i bambini nel gestione di emergenze pensiamo alle regioni terremotate e anche i bambini che arrivano rifugiati sulle isole della Sicilia dove è necessario anche avere medici che si occupino di loro per i primi soccorsi non dimentichiamo che l'anno scorso sono morti 700 bambini nel Mediterraneo ecco da oggi a Lampedusa e a Linosa noi abbiamo una task force del Maier con medici e infermieri che danno un primo soccorso a questi bambini e soprattutto a quelli che sono riusciti a sopravvivere ad una dramma come quello appunto della traversata del Mediterraneo stamattina al Maier saranno contenti anche i piccoli tifosi viola ma lei a Babbo Natale Corvino cosa chiederebbe? quello che chiederebbero tutti i tifosi viola lo scudetto ma mi accontenterei di una buona qualificazione per le europee in rappresentanza della Fiorentina presente come detto il DG Viola Pantaleo Corvino che ha indossato i panni di Babbo Natale per portare i regali in corsia e che non si è sottratto anche a qualche domanda sulla squadra gigliata più guardo questa Fiorentina anche ultimamente che si viene da non ho risultati positivi e più mi rendo conto che questa è una Fiorentina attrezzata per competere contro qualsiasi squadra è logico che poi ogni partita ha una sua storia quindi c'è da fare dell'analisi ma credo che poi la nostra amarezza dopo una sconfitta sia l'amarezza anche dei ragazzi del mister quindi si cercherà insieme di ripartire si parla molto di Sosa poi concludo è sempre solida l'esposizione di Sosa nei confronti insomma della società ma io queste domande sono domande che non posso ogni quapolta che si perde una partita e entrare in certi meriti meraviglio ancora che continui a fare una domanda del genere dopo sempre ogni sconfitta si mette sempre in evidenza la posizione dei tecnici diciamo che non è giusto non è bello a proposito di Gigliati presenti tanti ex Viola a partire da Giancarlo Antognoni passando per Aldo Firicano Lorenzo Amoruso e Emiliano Bigica presenti infine numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine in particolar modo il comandante generale della guardia di finanza Giorgio Toschi la guardia di finanza è sempre più impegnata nel sociale deve esserlo perché una polizia economico finanziaria deve essere soprattutto una polizia economico sociale perché tutte le mission affidate al corpo sono proprio in relazione alla difesa del cittadino onesto e quindi dei mercati e quindi dei contribuenti e quindi di tutta l'intera popolazione ecco perché il comandante generale oggi qui è venuto a Firenze al mayor per onorare due impegni il primo è quello assunto dieci anni or sono proprio con la fondazione Tommasino Baciotto perché abbiamo voluto sin da allora prenderci a cuore questa bella bellissima iniziativa e secondo poi perché vuole ribadire il comandante generale stando vicino oggi alla fondazione di Tommasino Baciotti per stare vicino proprio non solo a chi ha bisogno alla gente più in difesa ma soprattutto ai bambini che saranno domani cittadini e i contribuenti del nostro paese dopo questa incursione nell'ospedale Maier nell'evento organizzato dalla fondazione Baciotti andiamo a concludere l'appuntamento di oggi andando a parlare dell'assemblea elettiva del comitato regionale toscano della Lega Nazionale Dilettanti parliamo di calcio dilettanti ovviamente e di una svolta storica per il calcio toscano perché dopo 18 anni non sarà più Fabio Bresci il presidente del CRT a sostituirlo Paolo Mangini che prende il testimone proprio da Bresci un Bresci emozionato quello visto nel corso dell'assemblea elettiva di questo sabato un Bresci che però sa di aver affidato appunto il comitato regionale a un uomo che ha seguito tutto il suo percorso all'interno del CRT peraltro Bresci che è stato designato anche come candidato alla vicepresidenza della Lega Nazionale dilettanti per quanto riguarda ovviamente il territorio toscano noi andiamo a vedere insieme il servizio e poi ci salutiamo per concludere appunto l'appuntamento di oggi di T-Sport quello che ci siamo lasciati alle spalle è un weekend già entrato nella storia del calcio della nostra regione sabato infatti le società toscane della Lega Nazionale dilettanti sono state chiamate a eleggere il presidente del Comitato regionale toscana e i dieci componenti del consiglio direttivo oltre a designare il candidato alla presidenza della Lega Nazionale dilettanti e il vicepresidente sulla base territoriale d'appartenenza un'assemblea elettiva quella di sabato che ha visto Fabio Bresci lasciare il ruolo di presidente del Comitato regionale toscano dopo 18 anni sicuramente 18 anni sono una parentesi di vita negli anni migliori della vita un po' d'emozione c'è però c'è la consapevolezza dietro anche al consenso delle società di aver operato al meglio e di essere stato anche condiviso in quello che sarà il processo del trapasso e quello che sarà il futuro Paolo Mangini non si sta qui a presentarlo perché la sua storia all'interno del Comitato è nota a tutti è un personaggio che da coordinatore del settore romanile ha sempre seguito quelle che sono state le vicende dei dilettanti ma io cosa farò io a fine gennaio ci saranno le elezioni della Lega Nazionale dilettanti sono stato indicato all'unanimità dai colleghi come vicepresidente della Lega e proverò questa esperienza Bresci che lascia il CRT dunque non senza l'emozione di chi in 18 anni ha dato molto alla Toscana Bresci che lascia ma che tiene a sottolineare come la sua decisione di non ricandidarsi non sia stata legata ai suoi recenti problemi di salute tanto che lo stesso Bresci è stato designato dall'Assemblea di sabato come candidato alla carica di vicepresidente della Lega Nazionale di Lettanti sulla base dell'area territoriale di appartenenza a succedere Bresci al vertice del Comitato regionale toscano sarà adesso Paolo Mangini già coordinatore regionale del settore giovanile scolastico ed eletto all'unanimità dalle 513 società presenti all'Assemblea di sabato si tratta proprio di emozioni perché si accompagnano le due emozioni quella della diciamo così della fine di una presidenza che è quella di Fabio Bresci dopo 18 anni una presidenza intensa piena di tante iniziative ma anche diciamo così di tanti contatti e si apre un'altra presidenza che spero vada nella stessa maniera che segua la stessa strada questo è il mio augurio e ovviamente in questo mio augurio è anche diciamo una ricerca di aiuto e di collaborazione con tutte le società questa è una realtà pesante che ho io come ce l'ha tutto il nuovo consiglio perché le attività e la gestione del comitato fatta da Fabio Bresci è stata una gestione ottima e quindi noi dobbiamo continuare in questo tipo di gestione e nella continuità del programma diciamo di politica sportiva che è stato rivolto in questi anni alle società questa era l'ultima notizia del T-Sport di oggi ovviamente domani torneremo a parlare delle tante partite giocate nel weekend noi vi ricordiamo solamente che per quanto riguarda il girone 1 della serie A di rugby è arrivata una sconfitta per la Toscana Aeroporti Medici battuta 25 a 20 dall'Accademia Nazionale Ivan Francescato dunque Medici che rimangono secondi proprio alle spalle dell'Accademia Nazionale poi vittoria invece per i Cavalieri sempre all'interno del girone 1 Cavalieri Prato Sesto che infatti hanno battuto 12 a 0 il Cus Genova per quanto riguarda invece la serie A1 di pallavolo femminile ricordiamo le sconfitte di Savino Del Bene per 3 a 0 in casa contro la Pomica Salmaggiore campione d'Europa e per il Bisonte Firenze che invece è andato KO in casa di Montichiari per 3 a 1 vittoria infine per la Fiorentina Basket nel derby fiorentino di serie B contro l'Enic Pino Dragons vittoria 86 a 72 che ovviamente vi racconteremo domani anche grazie all'ausilio dei nostri servizi è davvero tutto io vi ricordo stasera l'appuntamento alle 21.20 con Acoma e Azzurro e quello alle 21.50 con Viola Express ovviamente T-Sport invece torna domani a partire dalle 19 arrivederci a presto a presto Grazie a tutti.